Le migliori condizioni per l'apprendimento, rilassamento e induzione dello stato mentale alfa. Al fine di creare le migliori condizioni di apprendimento, comincia a fare attenzione al tuo respiro. Comincia facendo tre respiri profondi. Ogni volta che inspiri, individua le zone di tensione e di stress del tuo corpo. Ogni volta che espiri, sentiti lasciarti andare e rilassarti per entrare in uno stato piacevole di serenità e di pace. Respira profondamente e mano a mano che i muscoli si rilassano, diventerà sempre un più facile liberare l'immaginazione. Se vuoi, è preferibile chiudere gli occhi, quindi inizia ad abbassare le palpebre. il respiro è calmo e regolare. Ispirazione ed espirazione devono essere movimenti respiratori equilibrati. Abbandonati alla sensazione di completo rilassamento. Cerca una posizione comoda per agevolare il rilassamento. La posizione scomoda impedisce il rilassamento. Così eviti le tensioni. Allenta le tensioni. Se le spalle sono troppo rigide, rilasciale. Se hai bisogno di stirarti, stirati. Ora, mentre sei seduto o disteso comodamente, poni di nuovo attenzione al respiro. Non so se ti stai rendendo conto che il tuo respiro si sta facendo più calmo. Inizi a respirare lentamente e profondamente. Ad ogni respiro ti stai sempre più rilassando. Ricordati, la respirazione che rilassa è quella diaframmatica. Ad ogni respiro ti stai sempre più rilassando. Cedono i muscoli della nuca, del deltoide, del collo. Della testa. Non si incrociano né braccia né gambe. Perché li voglio aprire, non chiudere. Voglio aprire i canali, lasciare andare la tensione, non trattenerla. Comincio a calmare la mia mente, il mio corpo e così via. Il rilassamento è molto semplice. Si inizia a respirare con un respiro che è lento e profondo. Prova ad ispirare dal naso ed espirare dalla bocca. Poi stabiliamo che l'ispirazione deve essere lunga quanto l'espirazione. Quindi bilanciamo tanti secondi ispiro, altrettanti secondi espiro. Espirare significa lasciare andare. Il respiro è calmo e regolare. Sii gentile con te stesso. Quindi un respiro gentile. Trattieni un po' e poi ispira gentilmente. Ispira lentamente. Fermati un attimo. Ispira profondamente. Posso sentire finalmente il mio corpo che lentamente cede. Abbandona le tensioni. Il mio ritmo respiratorio è lento e profondo. E in questa calma e con gli occhi chiusi porto lentamente la mia attenzione ai piedi. I miei piedi diventano più pesanti e caldi. Lentamente i miei piedi si rilassano. Lentamente porto la mia attenzione alle caviglie. Ai polpacci. Alle cosce. Ai glutei. Le mie gambe sono pesanti e calde. Le mie gambe sono piacevolmente distese. Completamente rilassate. Le mie gambe sono piacevolmente rilassate. Lentamente la spina dorsale allenta qualsiasi tensione. E tutti i muscoli della mia schiena si rilassano piacevolmente. La mia schiena è piacevolmente rilassata. I muscoli dell'addome si sciolgono dapprima in superficie e poi via via sempre più in profondità. Il mio addome è morbido. Le pareti dello stomaco si distendono e si rilassano piacevolmente. Il mio stomaco è morbido e rilassato. Tutti i muscoli del mio torace si distendono. Il mio torace si espande completamente e liberamente fino a ricongiungermi alle mie spalle morbide. Le mie spalle morbide. Le mie braccia sono pesanti e calde. Le mie mani completamente rilassate. La mia nuca è completamente rilassata. La mia nuca è morbida e distesa. Il cuoio capelluto si distende. La mia fronte è piana e distesa. Le mie tempie morbide. Le palpebre ricadono piacevolmente pesanti sui miei occhi. Piacevolmente pesanti. E permettono a tutti i muscoli del mio viso di riposare. Di rilassarsi. Io sono calmo. Disteso. Tranquillo. Piacevolmente rilassato. E il mio respiro è calmo e regolare. Il mio respiro è calmo e regolare. Il mio respiro è calmo e regolare. Ed io sono calmo. Disteso. Calmo e disteso. Bene. Molto bene. Ed ora, mentre sei calmo, disteso, rilassato, con gli occhi chiusi, e puoi ascoltare le mie parole, ti immergi sempre di più in una nuvola di rilassamento fisico. Ad ogni respiro ti rilassi sempre di più. E mentre ti stai rilassando e senti la sensazione di pesantezza delle tue palpebre chiuse, mi chiedo se in questo momento ti stai accorgendo che puoi cullarti in una sensazione di profondo relax e come se tu fossi entrato in una nuvola di quiete e serenità. e mentre puoi lasciarti cullare in questa sensazione e lasciarti scivolare sempre più in una sensazione come di sonno, non so se ti stai rendendo conto di essere più calmo e disteso di quanto pensi. Adesso, mentre la mia voce ti fa da guida, andremo a rilassare ogni parte del tuo corpo. Visualizza, stando ad occhi chiusi, le dita del piede sinistro. Rilasciale come nastri abbandonati sul pavimento. Lascia che l'onda di rilassamento riempia tutto il tuo piede sinistro. Dalla base del piede, l'onda sale lungo la gamba sinistra fino al ginocchio e dal ginocchio via via fino all'anca sinistra. Adesso visualizza le dita del piede destro. Rilassale una ad una e abbandonale come nastri sul pavimento. L'onda di rilassamento riempie tutto il tuo piede destro e dalla base del piede sale fino al ginocchio e dal ginocchio via via fino all'anca destra. L'onda di relax sale, rilassa i muscoli, distende gli organi interni, scioglie lo stress che si accumula nell'addome, nello stomaco, nei polmoni. Sale riempiendo il torace, le spalle. Poi ridiscende lungo la schiena, scioglie lo stress che si accumula nella cervicale. Distende e decontrae le fibre percorrendo la colonna vertebrale vertebra per vertebra fino al coccice. Visualizza adesso le dita della mano sinistra. rilassale e rilassale come nastri lungo la tua gamba. Il relax riempie la tua mano e dalla base della mano sale lungo l'avambraccio fino al gomito e via via dal gomito fino alla spalla sinistra. Visualizza ora le dita della mano destra. rilassale e rilassale come nastri lungo la tua gamba. Il relax riempie la tua mano e dalla base della mano sale lungo l'avambraccio fino al gomito e via via dal gomito fino alla spalla destra. L'onda rilassante sale lungo il collo, il mento, le labbra, le guance, il naso, gli occhi, la fronte, i capelli, la nuca. Ecco adesso il tuo corpo è completamente rilassato. Possiamo cominciare a distendere la mente. E mentre sei rilassato, puoi immaginare di essere in cima a una scala. Immagina questa scala come uno scalone delle fate. Osserva nei colori e le forme. Senti la sensazione dei tuoi piedi che toccano il terreno. E mentre sei su questa scala, io conterò da 10 a 1 e con ogni numero puoi immaginare di scendere via via verso il basso. 10 Sei in cima alla scala, pronto a scendere in un rilassamento sempre più profondo. 9 Un gradino. Scendi più giù, come in una nuvola di tranquillità. Una nube dolce e rilassante. 8 Ancora più in basso, più giù, in una sensazione sempre più profonda di quiete. 7 Hai piena coscienza del tuo progressivo rilassamento. 6 Un altro gradino, un altro passo verso il totale relax. 5 Sei quasi completamente rilassato e ti culli in uno stato di profonda tranquillità. Quattro Continua a scendere. Quando arriveremo in fondo alla scala, sarai completamente calmo e rilassato. 3 Lasciati cullare dalle tue sensazioni e sprofonda sempre più in profondità dentro di te. 2 Sei a un passo dal rilassamento profondo. È una sensazione piacevole. 1 Sei completamente rilassato, in una sensazione di assoluto benessere. 0 Più in basso del basso, calmo, rilassato, tranquillo. Bene, resta in questo stato ancora per un po', e poi lentamente, quando te lo dirò, riapri gli occhi, rimanendo per qualche secondo in silenzio. Adesso conterò da 1 a 3 e al tuo risveglio ti sentirai bene e rilassato. 3 Ti senti bene. 2 Provi una sensazione di felicità. 1 Apri gli occhi. Ora ti senti a posto emozionalmente, spiritualmente e intellettualmente. Ti senti sereno, calmo, rilassato, nel corpo e nella mente. conterò di più, di più, conterò di più. Grazie.